Lorenzo mi regala un sorriso Saluti buongiorno abbiamo letto l'insegna fuori Bumple dove state? Queste le palline, le faccio vedere, aspetta sono le bubble che esplodono e questo quindi sono varie essenze e si mettono nel? Nel pezzo Lorenzo sopra che c'è? Una saletta per vedere un'occhiata, è molto carina così Cioè li fai assaggiare? A piacere? Vi piace tutto? Sì, sì, sì Vabbè Allora Ice latte e come ti dico, è una tua mano Grazie Buongiorno Oh Dio 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 Design e architettura minimalista con uno strizzare l'occhio con questo archetto il balcone è su una strada e seven Dio 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 Grazie.